Caro Luca, anche questa sera è una di quelle serie in cui il sovrasensibile torna a sfiorarti le gote e si inarca dinnanzi a te per esplicarti in maniera sincera e non fattuale che il grande mondo del paranormale Si sono stancate le braccia, cos'è? Pieno, pieno di schifo Comunque sono molto contento che dopo tanto tempo si inarcherà qualcosa dinanzi a me Quindi grazie a metto di questa intro mi hai dato una speranza Quindi inarchiamoci tutti e vogliamoci tanto bene Esatto Sigla? Sigla Via! Allora, siete pronti a partire? Ma se aspettate che sia io a indicarvi la strada state freschi Perché dove stiamo andando non c'è bisogno di strade No Non ce n'è Non ce n'è Non guardo, dimmi quando c'è la scritta Questa potrebbe essere una puntata abbastanza interessante, eh signori? Avere un negozio d'antiquariato significa conoscere la storia di ogni singolo oggetto in vendita No, le bambole Basley Inghilterra Inestimabili cimeli stregati C'è un certo nesso tra oggetti di seconda mano e fenomeni spiritici Ah, ho piattolato Ogni punto è attaccato Possono attaccarsi agli oggetti per svariati motivi Questo cazzo possono attaccarsi Anche sui capelli sono attaccati alla testa Per Parker tutto inizia nel settembre del 2014 Cos'era quella roba scurata? Quale? Era un fallo lunghissimo Guarda lì a sinistra Ma no Si è bella che ci sa Quando ho sentito piglia piangere e urlare nel seminterrato Ho sentito piangere e urlare nel seminterrato Qualcuno può spiegare a questa gente che non si va mai e poi mai in cantina E nelle mansarde Né mansarde né in cantina E se sei nero proprio non devi entrarci in un film horror Perché intanto crepi È vero È proprio una legge Un altro episodio anomalo Si verifica dopo che Daniel appende un manichino al soffitto Con dei cerchi di legno come decorazione Ma che decorazione di merda è? Capisco se il manichino è scedola per to schiaffi Lì non è paranormale Cioè è buon senso Proviamo il manichino sul pavimento Così alla fine ho messo delle telecamere a circuito chiuso Un elettricista nota qualcosa che non riesce a spiegare Cosa? L'elettricista mi telefona per dirmi che aveva riaperto il negozio E aveva trovato dei vetri dappertutto In realtà è stato l'elettricista che come scusa è un fantasma Esatto Ha subito i filmati delle telecamere di sorveglianza E ciò che vede lo lascia stupefatto Oh No ma ti spiego nel senso Vabbè a parte che da qua potrebbe veramente essere successo di tutto Dal video sembra che il vetro venga rotto dall'interno È vero però dall'interno Quindi non qualcuno che da fuori spacca Le cose diventano ancora più strane quando ho una seconda telecamera Ed è sempre dall'interno Nei fenomeni dei poltergeist c'è un contatto fisico con gli oggetti All'inizio ho pensato che uno degli amici di mio figlio Avesse sparato per scherzo con un fucile ad aria All'epoca avevamo 16 telecamere Non sono 16 figli E nell'istante in cui la vetrina esplode Appaiono due volti simili a dei teschi Ma va Che sul momento mi spaventarono parecchio Ma dove sono questi Che sul momento mi spaventarono parecchio Blocca È blocca Lo blocca Ah Qua Vedi il naso e gli occhi È a destra e l'altro Lì Cioè Ha voluto vedere quando guardi la nuvole Dici quello è un elefante Se qualcuno si affeziona a un comò O una scrivania o cose del genere Dopo la morte Sì prima di tutto Vabbè ma questo si è staccato il gancio Dai Come se cade adesso uno di quelli là dietro Me ne vado Ma come? Ah Visto lì Palesemente un gancio Dai O stanno usando dei chiodi di merda Si sono in qualche modo abituati a questa presenza Il negozio in senso è tantissimo Sì Mia moglie chiama il fantasma William Vado a salutare William Al che un contenitore con tutti i biglietti da visita È caduto a terra sfiorandola Ma sto male Ormai la moglie ci è diventata amica Sì comunque sta famiglia è piena di problemi Voglio sfidare La sorte La sorte Andrò a prendere un biscotto Sei pazzo Lì nell'oscurità E non accendi la luce Non accenderò la luce Io per sicurezza Guardando i precedenti Mi giro Noi ci abbiamo il potter Che hai qua dentro Dai Oh Non accendo la luce È la prima cosa che ha fatto Eh vabbè Diciamo che a grandissima richiesta Quasi un anno di distanza Sono tornati I savoiardi Volevo solo sapere la grandissima richiesta Mi sono arrivati diversi messaggi Sì vabbè cagata Compragli i savoiardi Compragli i savoiardi Guarda Li metto via Tanto ne prenderà un altro Mentre li sta mettendo via Rischi nuovo la vita È andato via con un savoiardo Che era sotto la metà Era a metà E ho guardato apposta Mentre andavi via Era a metà Ma guarda che bugia Che falso Stonehenge è uno dei posti Più famosi al mondo Hemsbury Inghilterra Ufo a due passi da Stone Age Comincia in modo abbastanza innocuo Con due velivoli Che procedono affiancati A una velocità apparentemente normale Nel cielo grigio e nuvoloso E poi boh Mica Savò Savò Da due I velivoli diventano cinque Orco due No orco cinque Finché non scompaiono Per l'ennesima volta Dietro la collina Per poi tornare ad essere Nuovamente due velivoli Eh vabbè Come il giochetto Quello delle dita Così no? Quelle luci Si uniscono Quelle luci Quelle maledette luci Ma cosa è stato Ad attirare Quegli oggetti In questo luogo? La vicinanza a Stone Age O forse ha a che fare Con la collina Nelle vicinanze Tu che ne dici caro Luca? Ah cioè io parlo di collina Dici collina? Ma perché la collina Che cos'ha di strano? Hanno gli occhi Hanno gli occhi Quindi li vedono giustamente Vedo che hai capito la mia Hai fatto una pozzetta? No Dio Sarto Che schifo Ma hai presente La bummia aliena Della scorsa settimana L'ha fatta adesso dal culo L'ha fatta Che schifo Dove nel tempo Sono stati segnalati Numerosi Parso Uno dei più famosi Crop circle della storia E numerosi cerchi del grano Madonna che cultura ho? Eh? Che cultura ho del paranormale La cultura A forza di vedere Roberto Giacobbo Che cultura Perché la cultura È quella Perché sta risata Spiritata? Perché la cultura Ma per un cittadino di Alberta In Canada I messaggi nella sua casella vocale Non erano di nessuno Dei soliti noti Oddio Erano di persone Morte What? Non sa Ecco questo Questo potrebbe essere abbastanza inquietante Ma sto malissimo Panhold Canada Telefonate dai morti Sono un'investigatrice del paranormale E anche un'errore Che capelli Che comunica con gli spiriti Che non sono passati Nell'aldilà Che bello Avevamo ricevuto Anderson scoprono subito Che la casa è infestata dagli spiriti Di due uomini defunti Bene Che cazzo? Tenta di liberare la casa dagli spiriti Questi decidono di contrattaccare Prendendosela stavolta Con il marito Della donna perseguitata Et voilà Hai due messaggi salvati Primo messaggio salvato Cappettiera Cappettiera Ma no La classica moto Ho anche il vento fuori Tra gli alberi Quando fa freddo d'inverno Ma scusa ma c'ha detto Eeeh Ho un po' paura questo Madonna Senti Che cazzo Uè raga Non so Diciamo che ultimamente Con la team più o meno Prende così Sì ne pensi Credo che i due spiriti Stessero cercando di spaventarlo Lui non sta bene Potremmo dire che Ci sono riusciti Lui è provatissimo È così Lui non dorme da sette giorni Sorprendentemente Questo tipo di infestazione È più comune Di quanto possiate pensare Ho tolito di segreteria Io non la sento mai La segreteria A me mi sono già arrivata Alla fine però Hanno traslocato Direi Negli Stati Uniti La chiamano Bigfoot E qua la chiamiamo Luca Cascate del Nord Stato di Washington Presunto Bigfoot Presunto Presunto Hanno quasi mancato Un avvistamento Sensazionale E che? È una scena dai Mi chiamo Howard E mio figlio Gunner Ha girato quel video Durante un'escursione Alle cascate del Nord È una Benz Benz in Trentino Abbiamo scoperto Di averlo filmato Solo una volta rientrati A un tratto Zoom su un punto Poi riallarga Ma è una scemia Ma è una scemia A me sembra semplicemente L'ombra dell'albero Questa figura Sembra quasi L'immagine perfetta Del Bigfoot Ma che immagine perfetta Dai Sembrano dei pettorali Sì per carità Ma anche la sedia in camera mia Sembra un uomo Che mi guarda Mentre dormo Ma cosa vuol dire? Poi sono molto deluso Perché dopo cinque puntate Non trovo Veramente come sia possibile Che ancora non abbiano Fatto vedere Il Chupacabras Ci sono alcuni convinti Che possa spostarsi Da una dimensione All'altra Eh vabbè Adesso Madonna mia Ho sentito le voci Mi sono Quando sei concentrato Che stai guardando Sto programma Qualsiasi Siete dei tifoni Russia La bimba Che sfida la gravità Tarzan Torna qui Con la videocamera Segue le orme di Tarzan Prima di scoprire Una bambina Che le Oh Gesù Cristo Sotto lo sguardo Attento di una donna adulta Telecinesi raga Ma quando Tarzan abbaia La bambina scende Ed entrambe Corrono nel cuore Della foresta Portando via Ogni possibile Spiegazione logica Del fenomeno Ma in seguile Quanto è fake Quella sono la moglie E la figlia Quella è telecinesi raga Sì è telecinesi Segnando A sua figlia Ad usare le sue ipotesi Dai Fistrain Sì Nel bosco facevano le Sì Sfugge immediatamente Alla nostra comprensione Dai raga Ma è palesemente Attaccata a un filo Beh nei film Lo fanno coi cavi O ha delle fatulenze Molto forti E se notate Non inquadra Né quando si alza Né quando scende Comunque la gente C'ha veramente Una voglia Fatto bene però Amatoriale Ma fatto bene Forse la persona Che era con lei La stava facendo levitare Sfruttando le sue capacità Di telecinesi Tutte domande Che restano aperte Burlington Carolina del nord Anzi Carolina del nord La creatura inquietante Clark e suo marito Iniziano a sentire Rumori inquietanti Fuori dalla loro finestra Che c***o è Sì ma comunque Non esci di casa Sentivamo quei suoni All'incirca Da due settimane Prima che andassi a investigare Un procione raga Per due settimane Procione in calore Madonna mia Mi sembrava un occhio Mi sono cagato addosso Ma come puoi sembrare Un occhio Sembrava qua L'iride La sensazione Di essere osservati Nel buio È un fenomeno Umano naturale Ma quindi Non c'è niente Non la smettono Di fare Sì filmato Prima ha fatto vedere Che si è spaventata Di qualcosa È solo quando Matti rientra a casa E visiona il filmato Che si rende conto Che forse Qualcosa Effettivamente La stava osservando Guardiamolo A rallentatore Guarda lì a sinistra Che c***o è Guarda che toglie la testa Sembra a nascondersi Dietro un albero Che pipistrello Che mica i pipistrelli Hai visto C'è qualcosa Davanti al capanno Che sembra Nascondersi dietro un albero Appena il fascio Di luce della torcia Si avvicina Ha la faccia da uccello Ma in piedi No 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 La faccia sembra un braccio Direi che ricade Nella categoria Di una persona ombra Perché non ha forma E non la si può definire Si tratta di una creatura Dai contorni amorfi Che è in grado di Rimpicciolirsi a tal punto Da infilarsi dietro I tronchi degli alberi Beh ci asomiglia Dall'inizio del 2019 Matti e suo marito Continuano a sentire Quei suoni Ma vivono ancora lì Ce ne siamo Li sentiamo Cambia casa Questo ci ha attaccato Alla porta lì Madonna Sembra un insetto gigante Madonna potrei morire Dai Quello è un insetto domestico E anche Lo tengono come cane Lo carezzi Lago superior Michigan La nave fantasma Ma gli avvistamenti di navi fantasma Non appartengono solo al folklore Sono ancora attuali Ce ne sono alcune Che sono state avvistate E nessuno lo sa meglio Di Jason Hasselin Residente nel Michigan Nessuno lo sa meglio Cosa in realtà fosse Finché più tardi Non ho scaricato il video Sul computer Vabbè tutta sta gente Non vede un c***o E poi torna a casa Guarda il video E trova le cose Vela enorme E dell'albero maestro Sulla destra È proprio qualsiasi cosa Tranne una nave È proprio qualsiasi cosa Tranne una stracassa di nave Sembra neanche un piatto Con una forchetta di fianco Con tutte le storie Che circolano Sul naufragio Della Fitzgerald Si può solo immaginare Quante anime Si siano perse là fuori Lui era sulla spiaggia Si era appena fatto Dieci canne Si non mi dà Tutta questa feducia È stato magnifico Poterlo riprendere E riuscire a mostrarlo A tutti Prende nei film E nelle canzoni Capita non c'è Ah Buona Invece di pissare nel buio Hanno cominciato a temere Di essere conquistati A loro volta Da aggressori Provenienti da molto Ma molto lontano Ma che c***o è Era una pigna Girante Hot 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 Cina Cina Invasori spatiali China Questa è palesemente Un lampadario Ikea Praticamente messo così Uno lo tiene Ah ok È come quando vuoi fare le foto Alla torre di Pisa Che ti metti Il gioco della prospettiva La gente ha avvistato Uno strano oggetto Di forma conica Con una scia È uno che fa G*****o È italiano allora Italiano Presente italiano A me sembra un cignio La punta sembra Che parta qualcosa Che sia una scia di fumo Se cosa mi immaginare io Che festa c'è oggi In città Nel senso Cosa stanno facendo Non trovo che il fatto Che sia stato ripreso Da diverse angolature Non aggiunge necessariamente Credibilità Ma ci fornisce più dati Già questo Ad esempio Che l'hanno visto In più persone Ripreso da varie angolature In diversi posti È più particolare Rispetto agli altri È già più credibile Rispetto agli altri C'è chi ipotizza Che si tratti Di un razzo atlas Ma se si osserva La curva della traiettoria Di volo Descritta da questo ufo Dubito che un razzo atlas Possa volare così È un postotto Per essere un ruolo Eh magari è un lancio falleto Magari è un lancio falleto E anche questa puntata Del boss del paranormal È andata Dai basta però Che cavolo sto lavorando Con tutto sto casino Io non riesco Che manda i vocali Manda i vocali col tipo Tanto ci vediamo La prossima settimana Se no vi vengo a prendere C'è chi? C'è chi? C'è chi?